Il segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Cerbo torna a denunciare la violazione dei principi democratici a causa delle elezioni regionali fissate nella data del 10 febbraio prossimo. Sicuramente noi stiamo innanzitutto andando a votare per responsabilità del PD e del governo, del ministro Salvini che sta arrivando in questo momento, e del Movimento 5 Stelle che condivide la posizione in governo, di violazione della legge che prevede l'Election Day che siano accorpate le date delle elezioni quando si svolgono nello stesso anno. In Abruzzo l'accorpamento ci avrebbe fatto risparmiare 6 o 7 milioni di euro che saranno buttati. Questa violazione costa anche in termini di democrazia perché il tempo dimostra che in questo momento le liste come la nostra che devono raccogliere le firme lo devono fare praticamente in un clima polare, una situazione che impedisce di moltiplicare. Noi tradizionalmente in queste giornate in Abruzzo avremmo organizzato 50-100 banchetti in mezzo alle strade, ci sono interi comuni dove non si può neanche uscire per la neve e tutto questo avviene senza neanche che ci sia una norma regionale che preveda di dimezzare le firme, se ne sono assolutamente fregati. Voglio ricordare che se ci trovassimo di fronte ad elezioni politiche nello stesso periodo ci sarebbe stato il dimezzamento delle firme. Se il ministro dell'interno Matteo Salvini volesse, aggiunto ancora il candidato presidente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, potrebbe ancora intervenire per modificare la data del voto in Abruzzo. Noi una cosa vogliamo intanto però dire, che noi ce la faremo di tutto con lo sforzo e il lavoro volontario di tutte le militanti e militanti per raccogliere le firme e presentare una lista di sinistra a queste elezioni, una lista di sinistra che non può che essere alternativa al Movimento 5 Stelle e alla Lega, ma non può anche che essere alternativa al Partito Democratico e alla sua coalizione.